Aveva tenuto aperto a cena il suo ristorante La Grande Bellezza di Montbaroccio quando le regole imposte dal DPCM in tempo di lockdown lo impedivano. Sanzionato per non aver chiuso il locale in quel 15 gennaio 2021, nove mesi fa Umberto Carriera, ristoratore nonché leader del movimento Ioapro, aveva vinto in sede di giudizio civile vedendosi annullare la multa di 800 euro e i 20 giorni di chiusura dell'esercizio. All'epoca il giudice motivò quelle chiusure oltre le ore 18 ingiustificate sul piano sanitario. Ora però la Corte d'Appello del Tribunale di Pesero ha ribaltato la situazione dopo che la Prefettura ha impugnato la decisione contro la disapplicazione del DPCM condannando a sua volta Carriera a pagare le sanzioni pregresse. Carriera incassa il pronunciamento ma non ci sta e attraverso i social ha ribadito di andare in cassazione non per una questione economica ma di principio e dignità additando il ribaltamento della sentenza su una decisione presa per soli fini politici. La cena di quelle 15 gennaio 2021 alla quale partecipò anche Vittorio Sgarbi ha però aperto un'altra questione di battuta in tribunale quella che ha visto Carriera querelato per diffamazione dal dirigente della squadra mobile della polizia di Pesero Paolo Badioli. Agenti di polizia che durante le operazioni di controllo e sgombero del locale furono filmati col telefonino dalla compagna di Carriera Clarissa Rosselli. Un video poi postato sui social che produsse commenti che degenerarono in toni tutt'altro che lusinghieri per le forze dell'ordine. Il poliziotto denunciò sostenendo che quel video fosse tagliato e ricucito ad arte. Ieri però il perito nominato dal giudice ha detto che il video non ha subito modifiche. Un'altra partita che avrà il fischio finale nella prossima udienza del 6 marzo.